In questo video vedremo come creare uno sfondo trasparente in una semplice immagine utilizzando GIMP, programma che trovate a questo indirizzo che si installa sul proprio computer con i diversi sistemi operativi. Vediamo quindi un esempio. In questa presentazione ho collocato delle immagini che hanno lo sfondo trasparente. Proviamo a caricarne una. Questa immagine non ha lo sfondo trasparente quindi l'effetto ovviamente è questo. Per quanto io la possa ridimensionare è un effetto che non ci piace. Apriamo quindi il nostro programma e carichiamo l'immagine. Utilizzando uno strumento che è quello della bacchetta che trovate qui e cliccando al di fuori dell'immagine, si può fare con immagini ben definite come questa, per altre immagini si usano altre tecniche, cliccando quindi dicevo abbiamo evidenziato lo spazio tutto intorno al Marlin. Vado però adesso ancora con il comando di inverti per far sì che sia evidenziato il Marlin stesso. A questo punto lo copio e ho necessità di incollarlo. Ovviamente sono un'immagine con sfondo trasparente. Creo quindi una nuova immagine. Vado nelle opzioni avanzate e seleziono sfondo trasparente. Su questo sfondo incollo la mia immagine del Marlin. Ed eccola qua. Ora, l'ultima cosa che devo fare è quello di salvarlo. Quindi lo esporto con questo formato che mi dà la garanzia di avere un'immagine con sfondo trasparente. Lo rinomino e lo salvo nel mio desktop che trovate con il nome di scrivania. Torno quindi nella mia presentazione. Elimino l'immagine precedente e carico la nuova. L'effetto che ottengo è questo. E con questo è tutto. Arrivederci.